Fertigro Padana Sementi, se state cercando un unico prodotto con cui gestire il vostro tappeto erboso durante tutto l'anno solare allora Fertigro è il prodotto che fa per voi e ve ne parlo un po' in questa breve recensione è un concime NPK 12614 con l'aggiunta di microelementi a lenta cessione fa infatti parte della linea Fertigro di Padana Sementi che consente un'accessione controllata e graduale degli elementi per un periodo di tempo che va dai 60 ai 90 giorni in base all'epoca vegetativa oppure alla stagione di distribuzione grazie alla sua particolare composizione bilanciata con un rapporto di circa 1 a 1 tra azoto e potassio trova impiego sia come concime preestivo e preinvernale che come prodotto da utilizzare per l'intero anno solare sempre su prati a basso livello di manutenzione inoltre la sua ricca dotazione di microelementi lo rende ideale anche in caso di stress vegetativi conclamati possiamo dire che costituisce il nutrimento di base sul quale poi a seconda della necessità possiamo intervenire con trattamenti liquidi mirati Fertigro è disponibile sia nella confezione piccola da 4 kg che vedete nelle mie mani che nel sacco classico da 25 kg la dose che andremo a distribuire varia dai 15 ai 25 g di prodotto per ogni metro quadrato in base sia all'epoca vegetativa che alle concimazioni precedenti anche il Fertigro lo trovate nel dove io personalmente lo impacchetterò e lo spedirò direttamente a casa vostra tramite Corriere Espresso una cosa molto importante che ci tengo particolarmente a sottolineare è che nel mio negozio trovate solamente prodotti in pronta consegna ho scelto appositamente di non effettuare dropshipping vendite allo scoperto o cose strane che purtroppo vanno molto di moda di questi tempi poiché in passato come cliente ho avuto esperienze spiacevoli a riguardo quindi cerco di evitare le medesime situazioni difficili anche ai miei clienti quindi tutti i prodotti che vedete disponibili sul sito sono effettivamente e fisicamente presenti in magazzino una volta completato l'ordine sarà necessario solamente il tempo di impacchettarlo e di convocare il Corriere e lo riceverete a casa vostra nel giro di pochissimo tempo bene per il momento mi fermo qui come al solito vi invito a lasciare un like a questo video e ad iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti sul mondo del giardinaggio grazie ancora per aver guardato al prossimo video